Amici di Youtube ben trovati da Marco Ligori in questo video e con grande dispiacere segnaliamo un grave lutto per il mondo della musica. A 79 anni ci lascia Bobby Raidel, idolo dei teenager degli anni 60, Bobby Raidel ha decisamente segnato un'era, tra le altre cose ha cantato negli Us Volare di Domenico Modugno e Bobby Raidel ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1964 in quell'epoca e in un anno in cui presentava il grande Mike Buongiorno portò la canzone con un bacio piccolissimo, Bobby Raidel si è spento a 79 anni in seguito ad una polmonite. Amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti. Grazie a tutti.